Emirates, team New Zealand, dà una spallata alla finale di America's Cup. I campioni in carica vincono entrambe le regate di giornata contro Britannia e si portano sul punteggio di 6-2 e hanno quasi le mani sul trofeo. Dopo i due punti conquistati dagli inglesi, i neozelandesi hanno dimostrato una netta superiorità in entrambe le regate, rifilando distacchi abissali agli avversari, arrivando con oltre un chilometro di vantaggio. Adesso New Zealand ha quattro match point a disposizione. L'occasione buona potrebbe arrivare già domani con le regate live dalle 14 su Italia1 e sportmediaset.it